I modelli di gonne a nostra disposizione sono davvero tantissimi e spesso scegliere quello che più ci valorizza non è così facile come pensiamo. Oggi andiamo a vedere insieme i modelli di gonne più comuni e capiremo a quali tipi di fisicità donano maggiormente, quindi come sceglierli proprio in base alla propria body shape. Nel caso non vi conoscessi io sono Sara e sono una fashion stylist e una consulente d'immagine, benvenuta in questo video e anche in questo canale se è la prima volta che mi vedi. Prima di iniziare questa carrellata di modelli di gonne ti voglio ricordare che ovviamente ogni gonna può presentarsi in diverse lunghezze, quindi essere mini, midi o maxi e soprattutto che a seconda del suo tessuto e di quelle che sono le sue rifiniture può essere più o meno elegante. Tenendo quindi a mente questa premessa direi che possiamo iniziare subito dal primo modello. Il primissimo modello di gonna di cui ti voglio parlare è quello a tubino, ovvero quella gonna molto femminile e sensuale ma anche formale che si distingue per mettere in evidenza, per valorizzare le nostre curve in quanto molto fasciante. Viene da sé che questa gonna è ideale per chi ha un fisico bilanciato, quindi perfetta se sei una clessidra o un rettangolo. Mi raccomando in quest'ultimo caso di donare un po' di movimento alla figura scegliendo bene i capi per la parte superiore, ma anche perfetta se ti piace appunto mettere in evidenza le tue forme, quindi va benissimo anche se sei un triangolo o un ovale. Proseguiamo poi con la gonna a palloncino, un modello molto divertente, elegante, vaporosa, che dona subito quella leggerezza secondo me, un modello proprio bello. Questo tipo di gonna dona moltissimo alle fisicità più esili con poche curve che desiderano proprio aumentare il volume della parte inferiore e mettere anche in evidenza proprio le gambe, perché comunque la gonna a palloncino solitamente è di una lunghezza mini, quindi inevitabilmente le gambe saranno in primo piano. Ideale quindi se sei un rettangolo o un triangolo inverso, perché in questo caso l'ampiezza delle spalle verrà ribilanciata dall'orlo vaporoso proprio della gonna. La terza gonna di cui parliamo è il famosissimo modello ADA, che ultimamente devo dire viene scelto moltissimo. Piace proprio perché è un modello solitamente pulito e molto confortevole, che dona anche alla maggior parte delle figure. Inoltre questa gonna ha il potere, diciamo così, di rendere le gambe subito visivamente più snelle. Le body shape che vengono valorizzate molto da questa gonna sono il triangolo inverso, soprattutto se scegliamo un modello un po' rigido che cada proprio ad A, ma anche il triangolo a patto che sia di un tessuto invece più morbido, la clessidra e anche la figura ovale. Un'altra gonna che mi piace sempre moltissime, che trovo sia anche questa molto elegante e sofisticata, è la gonna a tulipano, che viene chiamata così proprio perché ha la forma di un tulipano capovolto. Questo modello di gonna ha il potere, chiamiamolo sempre così, di creare curve dove non ci sono, quindi solitamente nella parte superiore proprio della gonna. Quindi viene da sé che sia perfetta per la body shape rettangolo, per quella triangolo inverso, per la clessidra che come sappiamo può più o meno indossare tutto e anche, volendo, per il triangolo. A patto che il modello di gonna sia leggermente svasato e soprattutto che le curve non si focalizzino sui fianchi, ma sulla parte proprio superiore. Quindi bisogna sceglierla un po' con cura. Tra le mie gonne preferite poi troviamo il modello a pieghe, che è la classica gonna plissettata, ma che viene definita anche a pieghe proprio perché si caratterizza per il numero di pannelli che ha. Quindi quando ci sono tanti pannelli tutti vicini abbiamo l'effetto plissettato, quando invece abbiamo pochi pannelli e più distanti tra loro possiamo definirla proprio gonna a pieghe. Diciamo che l'effetto è lo stesso, ovvero aumenta il volume della nostra parte inferiore. Per questo dobbiamo stare molto attenti a come la indossiamo e soprattutto anche agli abbinamenti. Viene da sé quindi che questo modello sia indicatissimo per il triangolo inverso, per il rettangolo, proprio perché dona un po' di movimento, ma anche per la clessidra, sempre per lo stesso discorso che abbiamo fatto prima. Un'altra gonna il cui effetto è molto simile è quella a balze, quindi proprio quel modello che va ad aggiungere volume e a donare molto movimento e che inoltre tende a volte a tagliare un po' la figura. Quindi molto indicata su chi ha una fisicità sicuramente esile, anche alta forse, diciamo che la sconsiglio su chi è petite proprio perché l'effetto potrebbe trarre un po' di inganno e quindi parlando di body shape sì se sei un rettangolo e sì se sei un triangolo inverso. Proseguiamo poi con un altro modello di gonna che negli ultimi anni è sempre stato di tendenza, ovvero la gonna effetto un po' lingerie, la gonna in seta, in saten, che io trovo bellissima, la trovo molto versatile, molto utile ad avere all'interno il guardaroba, però sicuramente se la scegli nel suo modello, diciamo quello originario, va a segnare molto la parte, proprio la zona tutta dei fianchi, del sedere, delle nostre gambe. Quindi sicuramente deve stare bene, deve essere indossata con una certa biancheria intima e sono anche molto importanti gli abbinamenti, un pochino più difficile forse, anche se appunto come ti dicevo prima può essere poi portata sia per outfit molto casual ma volendo anche molto eleganti, soprattutto a seconda del colore che scegli, se è rifinita bene, i suoi dettagli e tutto quello di cui parliamo sempre. Quindi a chi sta bene, sta bene sicuramente a innanzitutto a chi desidera mettere in evidenza le proprie forme e poi ovviamente a chi ha un fisico bilanciato. Andiamo avanti con un altro modello di gonna, ovvero quello asimmetrico. Sicuramente lo hai visto all'interno dei negozi, lo vedi su vari look di celebrity, è proprio quella gonna che presenta un lato o più lati di una lunghezza diversa. Questo modello sta molto bene su chi ha un baricentro alto, proprio perché tende a rendere le gambe un pochino più corte, ma dall'altra parte le alleggelisce davvero moltissimo visivamente, le fa sembrare subito più snelle e proprio più leggere. Quindi è perfetta se sei un ovale, ma anche per tutti coloro che appunto desiderano questo effetto, questo risultato. L'unica cosa di cui ti devi assicurare è che non ti tagli la figura e ti faccia sembrare quindi un pochino più bassa. Non potevo poi non inserirti la gonna a ruota, chiamata anche gonna piena, ovvero quel modello molto romantico, un po' anni 50, ma che non per forza deve essere così piena, diciamo che puoi scegliere tu l'ampiezza della gonna, però per capirci, diciamo, è quel modello lì. Che ovviamente va a rendere la figura sulla parte inferiore molto leggera, ma al contempo diciamo piena, quindi sicuramente dona alle fisicità più bilanciate, come può essere la classica clessidra, soprattutto mettendo in evidenza il punto vita e andando a bilanciare la parte inferiore con la parte superiore. Quindi comunque se aggiungi molto volume sulla parte inferiore, ricordati di aggiungerne anche sulla parte superiore, ma è anche perfetta per il triangolo perché va a nascondere, a mascherare un po' i fianchi più pieni. Mi raccomando di aumentare l'ampiezza delle spalle, magari con una spallina, una manica a sbuffo. Cerca ovviamente di andare incontro a tutti quelli che sono i trucchetti per bilanciare la parte inferiore e la parte superiore, a maggior ragione proprio se sei un triangolo. E poi ovviamente sì anche se sei un rettangolo e un triangolo inverso. Triangolo inverso ancora meglio perché l'orlo ampio della gonna andrà subito a equilibrare l'ampiezza delle spalle, quindi perfetto. E poi concludiamo con la gonna Godet, ovvero quel modello che si caratterizza per avere alla fine della gonna una balza, è molto elegante, raffinata, molto femminile, solitamente viene utilizzata proprio per delle occasioni più formali in cui si ricerca un determinato abbigliamento e il suo potere è quello di porre tutta l'attenzione sulle gambe, quindi è sicuramente indicata proprio per chi vuole mettere in risalto le proprie gambe. Ok, sia su un triangolo inverso ma anche su un ovale, solitamente sta molto bene. E poi poniamo fine a questo breve elenco con la gonna a portafoglio, anche questo un modello molto versatile, comodo ed è quella gonna, se non ce l'hai presente, che si ripiega su se stessa proprio e che si chiude solitamente all'altezza della vita o del fianco con un fiocchetto e anche che quando cammini magari lascia intravedere un po' la gamba, questo dipende a seconda della gonna a portafoglio che sceglie, perché poi ce ne sono di diversi tipi. Comunque questo modello di gonna valorizza moltissimo la figura ovale e quella a clessidra, ciò non toglie ovviamente che anche le altre body shape la possano indossare, tenendo sempre a mente tutti i consigli per valorizzarsi al meglio. Detto questo, spero che questo breve elenco ti sia stato utile, che abbia fatto scoprire qualcosa di in più sulle tue gonne magari preferite. Fammi sapere quali sono i modelli che indossi più, con quali ti senti più valorizzata, quali anche trovi più comodi. Io ti ringrazio molto per aver seguito questo video, come sempre ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo, un bacione!